C'era una volta ad Albano Laziale una raccolta rifiuti fatta con cassonetti con la quale si differenziava poco e la città era sporca molto sporca è arrivato il momento di fare qualcosa un gesto da eroe la raccolta differenziata porta a porta che è più comoda più rispettosa dell'ambiente e più pulita ora ognuno di noi può fare la differenza un gesto da eroe trasformando i rifiuti in nuove risorse la raccolta differenziata fa bene all'ambiente e al nostro portafogli grazie Albano Laziale città di tanti supereroi che fanno la differenza cosa aspetti a unirti a loro ad Albano Laziale differenziare è un gesto naturale campagna informativa a cura del comune di Albano Laziale